Eccoci, siamo arrivati a G come giocare, là in fondo si possono lasciare gratuitamente i passeggini, e poi questo è il padiglione, gonfiabili, scivoli, adesso proveremo a vederlo un po' tutto, qua si fanno i garoni si fanno, stand della Barbie, sopra ci sono tutti i bambini, qua c'è la Barbie in grandezza naturale insieme alle 500, zona brutto, l'angolo dei Pupazzi, la Rebecca sta giocando con qualunque Pupazzo provi in giro, con tutte le forme, per tutti i gusti, Ale, guardali che giocano tutti con i Cubotti, stand della Clementoni, non be' che vi lancia le robe, i componenti, l'amichetto, tutti impegnati, tavolini, genitori a destra e a sinistra, ovviamente, che brava piccolo sto spazio invece, è bello grosso, una veduta dall'alto, mentre scendiamo da una scala mobile, è l'ora di colorare? Eh? Cosa dici? Facciamo un po' di disegni? Eh? Dai, fammi vedere cosa fai, beh, fino adesso sono delle vere opere d'arte, brava, 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 è il tappo, è il tappo, bisogna rimettere il tappo? Eh, 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 si rimette il tappo sul pennarello, brava, qua invece c'è un'altra area, scivoli e costruzioncine di plastica, piccoli brighters, un muro, con i gessetti messi a disposizione, ecco qua, c'è l'area delle bambole, ciccio bello, bellissima la vasca con le palline, siamo nell'area dei gormiti, gormiti, là ci sono tutti i gormiti del mondo, immagino, guarda, guarda, il Lego, animali fatti di Lego, sono fatti di Lego, ah, già, è vero, è vero, sono là un leone di Lego, non poteva mancare la pista di macchinine, bene, è venuto il momento di andarcene, Rebecca, andiamo, ma, non è molto convinta, va, 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 ole, siamo pronti, andiamo, ciao, grazie a tutti,